Ma guarda Lele, io ti dico la sincera verità, loro pochissima roba, hanno solo ed esclusivamente difeso dopo aver fatto il primo gol ancora di più, noi abbiamo fatto un buonissimo primo tempo, secondo tempo abbiamo gigioneggiato un pochettino, però non è la partita da far caso, perché ok, dovevi vincere, hai fatto una buona partita anche giocando bene, però le partite che contano sono le prossime, questa è l'idea mia. Giocatore super super top, chiesa, migliori in campo in assoluto, e poi l'anima di questa squadra qua, secondo me Barella, che ha fatto una buonissima partita, una grande partita, è quello che fa le due fasi benissimo e su questi due giocatori ci dobbiamo basare per le prossime partite. Andò, Chelsea Cheese, Barella, allora secondo me Barella indiscusso, migliore in campo, e mamma mia poi quando ha fatto gol a Albania, io che ridevo sulla Scozia, tutta colpa di quel gol a freddo, quando l'abbiamo preso mi è venuto madonna un attacco, però anch'io ho avuto la sensazione che si vinceva al primo tempo, benissimo, benissimo. Invece io vi devo dire a voi, a te e al nostro amico Lele, due barra tre occasioni pericolose, anche se hanno tirato mezza volta in porta con Manai all'ultimo, lì dietro i due centrali a me fanno paura, un po' in modo negativo. Condivido lo status e la gerarchia di Barella, totalmente dominante e soprattutto l'atteggiamento, la personalità, le scelte dentro la partita, secondo me ha galleggiato su un livello superiore di concetto e proprio di gerarchia, d'accordo anche sulla prestazione di Chiesa. Chiesa andava a destra e ha giocato a destra, mentre a sinistra lavoravano in tandem, Pellegrini a Ricciolo per andare a legare il gioco da trequartista defilato e corsia di Marco, a Chiesa veniva lasciato l'isolamento in corsia e ha fatto le scelte bene, però è stato sia diligente che intraprendente. Altra cosa sui difensori, quando c'è da costruire l'Italia è forte, perché l'Italia costruisce come pochi, da dietro, palleggiando e chiaramente anch'io io ho chiuso il collegamento dicendo vediamoli con la Spagna.